Che come Ministro dello Sviluppo vada a incontrare un'azienda come Contarina va bene, come Ministro del Lavoro, visto che è il doppio incarico, forse è il caso che venga a capire cosa vuol dire il sindacato di una forte rappresentanza, mi riferisco a Cigelle e Cisleville Trevigiane, che probabilmente hanno qualcosa da dire anche sul profilo delle relazioni industriali. È solo la prima frecciata dei sindacati trevigiani nei confronti di Ministri e Governo. Sotto esame la manovra finanziaria, discussa oggi pomeriggio dai delegati delle diverse aziende della marca, riuniti a Paese. Quali sono le cose che interessano di più e interessano di meno delle promesse fatte da questo Governo ai nostri lavoratori? Da una parte quello che entusiasma meno è sicuramente il reddito di cittadinanza, soprattutto da queste parti, perché comunque il timore è che le risorse poi vadano a incidere su quelle che sono le risorse previdenziali dell'Inps. Dall'altra invece non tanto la quota 100, ma la possibilità di riformare un po' la legge Fornero e di rivederla nei termini di aspettativa di vita, e che attualmente sono molto lunghi. Un Governo che non potrà rimanere indifferente alle richieste di questi territori, ad iniziare proprio dal rapporto con l'Europa. Proprio da qui devono partire anche delle strade innovative per essere più forti e considerate più forti. Come ricordo in Veneto, il primo semestre di quest'anno il 60% delle produzioni export riguardavano i Paesi dell'Europa e quindi dobbiamo stare dentro in Europa con imprese più competitive e più forti. Insomma, lavoratori critici col Governo, fatto da partiti che però hanno votato. Si sentono rappresentati politicamente da un soggetto di centro-destra, ma nei luoghi di lavoro si sentono ben rappresentati e sentono di essere tutelati da Cigelle e Cislawil. È un tema che ci interroga quotidianamente, ma secondo me dovrebbe anche interrogare un po' la politica stessa, tutta la politica, anche quella di centro-sinistra. Grazie.